Buongiorno, è martedì 24 marzo. La paura fa novanta, l'amore cento. Sì, l'amore, ma quello vero. Vorrei proseguire la mia riflessione sull'amore familiare nel tempo del coronavirus. Restando tutti a casa, abbiamo più tempo da dedicarci, più amore da scambiarci con i nostri cari. San Giovanni, nella sua prima lettera, afferma che se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore in noi è perfetto. Noi, creature fragili e sempre principianti nell'amore, potremo mai sperimentare questa perfezione? La risposta è sì. La condizione, però, è che l'amore con il quale ci amiamo non sia frutto dei nostri sforzi umani, ma un dono che riceviamo da Dio. Ciò significa che possiamo amarci alla divina, alla maniera di Dio, se gli permettiamo di essere parte della nostra vita, coinvolto nelle nostre relazioni familiari, specie se sono problematiche o fondate su un amore traballante. Con l'amore di Dio, un padre o una madre diverranno capaci di accogliere, di perdonare, di non trascurare i propri figli e soprattutto di benedire. Noi non comprenderemo mai quanto sia sorprendente e risolutivo l'amore di Dio nella nostra vita finché non avremo fatto una esperienza personale partendo proprio dai nostri fallimenti. E questa è la condizione favorevole per invocare e ricevere l'amore di Dio nelle nostre case. Allora tutto può cambiare. Allora saremo capaci di vivere come mai prima nella nostra vita. Allora sarà vero amore cento per cento.